Sono 133 le donne che hanno chiesto aiuto a telefono Donna Lecco nel 2020, un numero in costante crescita che la pandemia ha addirittura acutizzato perché l'incubo molto spesso è tra le mura di casa. Lunedì 8 marzo si celebra la giornata internazionale per i diritti delle donne e per l'occasione il gruppo giovani di Api Lecco Sondrio ha deciso di sensibilizzare le proprie aziende su questa emergenza sociale. Insieme a Telefono Donna Lecco è stata realizzata una locandina che ha come scopo quello di porre attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne, chiedendo poi ad ogni imprenditore di affiggere il manifesto nelle proprie aziende. Ogni giorno leggiamo cronache di donne vittime di violenza, quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per dare una mano e creare un progetto strutturato e dedicato al nostro territorio, spiega Laura Silipigni, presidente del gruppo giovani Api Lecco Sondrio. La prima iniziativa del 2021 è stata realizzare questa locandina che abbiamo inviato a tutte le aziende associate di Api, dove centinaia di donne lavorano ogni giorno. Inoltre, prosegue Silipigni, abbiamo in cantiere un progetto a cui teniamo molto, creare corsi di formazione e tirocini per queste donne che molto spesso, quando lasciano il compagno o il marito, devono ricostruirsi una vita e il primo tassello fondamentale per farlo è avere un lavoro e uno stipendio. Felice dell'iniziativa Lella Vitali, presidente di Telefono Donna Lecco. Ringraziamo il gruppo giovani di Api per il loro sostegno e la passione che stanno mettendo in questo progetto. La violenza sulle donne colpisce trasversalmente qualsiasi ceto sociale. Vediamo ogni giorno situazioni sempre più difficili e complicate con donne che vengono annullate dai propri compagni, che li impediscono di avere un lavoro, un conto in banca o qualsiasi libertà. Per queste donne è difficile, ma non è impossibile uscire dal loro incubo, devono solo avere il coraggio di fare il primo passo verso di noi. Per contattare Telefono Donna basta chiamare il numero 0341 36 34 84, visitare il sito www.telefonodonnalecco.it oppure rivolgersi ai consultori di Lecco, Calolzio Corte e Mandello Dell'Ario.